Mancano poche ore alla grande partita che si terrà allo Sly Stadium di Bari nella seconda giornata di campionato di promozione pugliese Girone A 2019-2020 tra la Sly e il Canosa Calcio 1948. Ad abitrare il signor Vito Mattia Losapio, coadiuviato dagli assistenti Pasquale Garofalo e Domenico Giordano, tutti dalla sezione di Molfetta. Per le due società questo sarà un ritrovo in un nuovo campionato e in una categoria superiore. Chiediamo rispettivamente ai presidenti della Sly del Canosa, quarto e tedeschi, come sarà questo incontro. Buongiorno Claudia e un saluto a tutti i telespettatori e gli ascoltatori della Terra del Sole. Sì, domani affronteremo un avversario che già conosciamo dalla scorsa stagione, il Canosa, che ha tenuto un buon organico già competitivo, non a caso ha disputato i play-off contro Manfredonia per poter accedere a un campionato di promozione che poi meritatamente, grazie ai ripescaggi, ha ottenuto e con degli inesti abbastanza importanti. Noi comunque da parte nostra rispettiamo come sempre tutti gli avversari, ma abbiamo l'obiettivo unico, come sempre, come ogni stagione, che è quello di vincere. Quindi domenica sarà una partita abbastanza tosta, ma sappiamo e conosciamo bene il nostro organico e siamo pronti ad affrontare una partita, come tutti gli altri 28 che dovremmo affrontare col massimo spirito e con la nostra mentalità vincente. Ci sarà questo incontro appunto dove ritroveremo nuovamente la Slai, che insieme al Manfredonia diciamo che saranno le squadre da battere e che alla fine si contenderanno il titolo di regina del girone A di promozione. Poi con l'aggiunta, secondo gli addetti ai lavori, del Bitritto. Certo, nel calcio nulla è impossibile, anche se la Slai sappiamo tutti che squadra è, come si presenta ai nastri di partenza. Però, appunto, voglio ricordare che l'anno scorso siamo stati i primi a fermare questa corazzata a San Sabino. In quel San Sabino che, grazie al pubblico numeroso che ha corse in quell'occasione per salutare mio zio Pietro, perché, ahimè, era la prima partita dove lui non era seduto con noi, al nostro fianco, nella tribuna, Mauro Lagrasta. Veniamo ora alla gara. Il Canosa, dopo la sconfitta della scorsa giornata con la Castellaneta, anche se con un risultato di misura, vorrà fare una bella figura e portare un buon risultato a casa. Come risponderà la Slai, Presidente? Il Canosa ha perso, da quello che vi ho visto anche nei filmati, una partita che ha combattuto per tutti i 95 minuti, il gol è arrivato qua se lo scadere, con un avversario come il Castellaneta che è sempre un avversario ostico sia in casa che in trasferta, quindi sicuramente avrà tanta voglia di riscatto, ma noi ci faremo trovare pronti perché sappiamo quanto è importante per noi esordire, fatta di specie in casa, con un risultato pieno. La Slai ha vinto la sua prima partita di campionato e certamente vorrà continuare a vincere, forte di una corazzata squadra. Il Canosa come risponderà? Certo, la Slai scenderà in campo per conquistare i tre punti, però è ovvio che di fronte troverà un Canosa bello tosto che ovviamente proviene da una sconfitta immeritata al 93esimo e che risponderà colpo su colpo alla Slai. Certo, loro giocheranno in casa, ma noi siamo il Canosa Calcio 1948, abbiamo 71 anni di storia che non possiamo permetterci minimamente di mettere sotto i piedi o calpestare. Certo, loro sono stati costruiti per vincere il campionato, ma noi abbiamo costruito una bella squadra che se la può giocare tranquillamente con tutti. Poi sarà sempre il terreno a dire chi vincerà questa bella partita. Presidente Tedeschi, cosa vuol dire ai tifosi in vista di questa grande partita che da sempre sostengono il Canosa? Ai tifosi dico come sempre di seguirci, perché ormai lo fanno da sempre, non ci fanno mai mancare il loro apporto e sicuramente saranno presenti sulle gradinate dello Slai Stadium e so che sono vicini a noi, lo sono sempre stati, io di questo in primis ne sono. orgogliosissimo e poi fa anche bene al calcio, fa anche bene a chi segue questo mondo perché rende e fa vedere quel lato del calcio che a volte qualcuno dimentica o che qualcuno fa fin da non vedere, perché ovviamente una squadra senza pubblico, senza tifosi, secondo me non sarebbe squadra o non sarebbe bello il mondo del calcio qualora non esistesse la componente pubblico. Gli dico come sempre di sostenerci a gran voce, sappiamo benissimo chi andiamo ad affrontare, però ripeto, tranquilli, ci andiamo a giocare la nostra partita, noi siamo il Canosa Calcio. Presidente Quarto, questa domenica scende in campo la Slai solidale, quindi non solo calcio ma anche solidarietà. domenica i capitani entreranno, entrambe le squadre entreranno in campo con il piccolo Dylan, un ragazzo che è stato salvato da due coraggiosissime ragazze che anche esse saranno presentiate dalla nostra aglia solidale e daremo omaggio quindi col calcio d'inizio di questo bambino che stava per negare purtroppo una tragedia che è stata scampata grazie a queste due ragazze che hanno avuto la prontezza e il coraggio di poterlo aiutare. Poi ci sarà come sempre una raccolta fondi per le persone purtroppo meno fortunati di noi e aiuteremo una ragazza giovanissima che sta combattendo uno di questi mali purtroppo del ventunesimo secolo dove difficilmente si riescono a trovare soluzioni, però noi nel nostro piccolo cercheremo grazie all'aiuto di tutti i nostri sostenitori e di tutte le persone che parteciperanno alla gara di raccogliere dei fondi che serviranno per questo trapianto. Quindi un motivo in più per raggiungere lo stedio domani numerosi. Sappiamo che molti preferiscono anche vedere le partite durante le tirette sugli schermi di Antena Sud, però questo è un motivo in più per far sì che con un piccolo gesto si possano aiutare persone in difficoltà. Ringraziamo i due presidenti e vi diamo l'appuntamento allo Sly Stadium per una partita da non perdere e soprattutto per una grande festa di sport.